La 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 Ha Mi sembra l'istana di una festa qua Vieni Alessia, attenzione Alessia prometta calciati Di testa, vai Di testa, vai ancora, veloce Ma, scusa, ma che è che ti dà lezioni di calcio? Cos'è quello? Dipetto Dipetto, lei adora lo stop Ma amore tesoro, non è che lo adoro mi viene spontaneo è un pazzesco allora siamo qui per annunciarvi noi stiamo giocando a pallone ma dietro di noi ci sono dei niti gli F-R-60 attenzione attenzione è importante bisogna dirlo dal vivo e poi vi regalo sto pallone attenzione dal vivo il nuovo pezzo che si intitola My Console come on Piano putt'em hands up in the air come on second grade metal gets solid Resident Evil France Teresmo Omega Boost let it rock it's fast all over the world now come on red, tracer odd world winged 11 the game on the station come on come on putt'em up putt'em up check it out check it out green as the Grazie a tutti 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 Grazie a tutti